tricarsi anche con questo problema ulteriore, comunque questa, io dico sempre, lo sport automobilistico ha tante specialità, ognuno è campione nella sua specialità, non ci sono piloti più bravi e piloti meno bravi, ci sono specialisti dei rally, specialisti della Formula 1 e specialisti del Gymkhana e non sono intercambiabili i piloti, quelli che sono bravi di là non è che automaticamente sono bravi di qui, proprio per niente, per cui onore a questi piloti che fanno sempre delle cose che non ci si aspetta e sono bravissimi. Sono d'accordo, grazie, ce ne sono sempre del giudizio.